Grazie a tutti. Ciao, sono Simon, ci troviamo a Venezia con il Moon Buggy. Stiamo facendo dei test drive per vedere se è possibile utilizzare il Moon Buggy qui a Venezia per organizzare una gara futura. Venite avanti, venite avanti! Vincenna! Ok, faccio un giro per i fotograferi, questo è bello. Solo un giro, è bene, un giro giro. Ok, faccio un giro. So, can you can go back? Ok, faccio un giro per i fotograferi. So, turn around the place here, slowly. So, come? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti